Vinter ha portato in manzalga la Naccia, esattamente al ventottesimo minuto a 30 secondi 1-0 dove per la Croccia, sulla destra per Pari Da Pari e Portini, Portini avanza, poi cede palla sulla destra per Imbriani Il crozzo per la Contini, Pareggio Pareggio è la piccola, il portiere del Parma Puffon che c'è un po' qualche istante prima Ai limiti, passa al centro, finta di Buso, Imbriani 1-0 ed è gol Imbriani, gol, grande entusiasmo, va rivista questa azione molto bella Progressione splendida di Pizzi che ha giocato a ritosso delle punte Splendida anche la punta di punto e di piatto destro Imbriani realizza l'1-0 Avanti il Napoli, ora Poi trattare la passione, gol, gol Il giocatore di Imbriani Imbriani ha sapinto Eccendo il risultato al futuro Vedete ancora Imbriani, marcato stupendamente da Mass Si presenta tutto il tutto Eccendo il risultato a ritosso delle punte Gara alla passione, il risultato è in avanti Spontro di tazzo, flamoroso Di Imbriani Tuttia munizione proprio al novantesimo Ma guardate quello che succede al novantaduesimo Ancora in Napoli Imbriani, Agostini, Imbriani solo al vuolo Risulta corta di giulice. Pennellata alla gioco per Guidoni di controbanco. Ballone ad incrocio A liberare, poi scivola Icriani Il top test del gol di Icriani Dunque il Benevento che fa in vantaggio con Icriani Tutto questo al trentesimo Dunque il Benevento in vantaggio con Icriani L'esterno destro di Icriani E' naturalmente l'esistanza E' tutta Giannorosa Dobbiamo dire che ora E' difficile per la Bellini Pronti via Il Benevento fa in vantaggio con il polvo di testa Il Benevento fa in vantaggio con Icriani Il Benevento fa in vantaggio con Icriani Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tutto quello che sicuramente fuori non avevo. Ho trovato veramente una famiglia. Io vorrei ringraziare tutti perché sono stato veramente bello. Io avevo voglia di rimettermi in discussione. Grazie a tutti. Spero di aver lasciato un bel ricordo qui in città, se non ci sarà, se non rimarrò più buoni. Grazie a tutti. Grazie a tutti.